una sola perché no una sola perché una sola perché da conchierotta 50-60 grammi ma paga Sì, senti scegliere Poi si è una persona che è stata riuscita, non mi ha detto. Se ci sono i ragazzi non sono i ragazzi, non sono i ragazzi. Non si non sono i ragazzi, non sono i ragazzi. Ti senti un po' di questa? Gag... Non è un po' di questa. Non è un po' di questo.